Il concerto conclude con l'estibizione di coro Città di Villa San Giovanni, di Regione Calabria, diretto da Maestro Giussi Santa Caterina. Prego. Il coro Città di Villa San Giovanni presenta due brani, Anima Cristi e Cose Stupende, di Cristina. Per voi, coro Città di Villa San Giovanni. Can I sit here? Can I sit here? Anima Cristi, santificamem, portus Cristi, santamem. San Cristi, santificamem, portus Cristi, santamem. San Cristi, santificamem. Amore, Gesù, 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 Gesù. Amore, Gesù, 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 Ges Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.